E' la vittoria della serietà contro il nulla e quindi è ancora più bella. Una grande squadra, la sostenuta, abbiamo percepito una grande emozione, un grande cuore, anche un grande cuore lavagnese. Una grandissima squadra fatta di lavagnesi che amano Lavagna e che vogliono solo il bene di Lavagna. Per Cugno è ancora più bello. Come ha vissuto lo scrutinio questo test a test? Insomma fino all'ultimo eravate vicini, ecco come risultati. Eravamo tutti però molto consapevoli dell'impegno che ci abbiamo messo, della serietà con cui ci siamo porti nei confronti delle persone. No, 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 nei confronti dei nostri lavagnesi per cui avevamo la sicurezza e la serenità di chi ha lavorato bene e quindi aspettavamo con grande serenità anche il voto dei lavagnesi. Che ringraziamo che per la seconda volta ci danno l'opportunità e un dono che ci fanno di poter amministrare le loro cose. Si torna a lavorare per tutta la città, quella che ha votato e quella che non l'ha votato. Quali sono a suo avviso adesso le priorità? Non ci sono priorità, non abbiamo mai smesso di lavorare e continueremo così, come abbiamo sempre fatto, senza dare priorità perché tutto è una priorità per l'attenzione e per il miglioramento della nostra città. Vuole dedicare a qualcuno questa vittoria? No, no, solo all'impegno nostro che abbiamo messo e ai lavagnesi perché si meritano una gestione veramente attenta, seria, delle loro finanze e dei loro beni.